La cercavamo e volevamo soprattutto fare anche contenti tifosi che da un po' che non riusciamo a vincere in casa. Il secondo tempo ci siamo abbassati un po' tanto e abbiamo sofferto di più. Però l'importante, ci avevamo detto che dovevamo solo vincere e siamo riusciti a farlo. Il risultato è quello che volevamo fare. La prestazione secondo me, soprattutto il secondo tempo, è molto migliorabile. E anche nel parlare serve per darci una mano a tutti, quindi anche quello dobbiamo aiutarci di più. Abbiamo provato questi due giorni dopo Siena, abbiamo provato anche la difesa a tre in allenamento e il mister ha deciso dopo di schierarci a tre. Ovviamente dopo la fine c'è stata l'espulsione di Codromas, però dai, siamo cavata. Stasettimana cercheremo di stare super concentrati perché ultimamente quando facciamo una prestazione positiva abbiamo sempre un calo. Quindi cercheremo di stare concentrati e di dare il massimo anche domenica. Il morale è un po' migliore. La viterbese si è rinforzata tanto, sarà una partita complicata come saranno tutte da qua alla fine. Cercheremo di portare i punti a casa perché adesso è quello che conta. Sì, speriamo che faccia il bravo. Mimmo era un senatore qua a Teramo, tutti li vogliamo bene, però domenica siamo avversari. Quindi ci saluteremo a fine partita.